L'Aquila Calcio ha un modello importante, un modello basato sull'azionariato popolare, la società in mano ai tifosi. Il presidente onorario Francesco Ghirelli fa un paragone importante, quello con il Bayern Monaco. Ascoltiamolo, l'ex presidente della Lega Pro, ascoltiamo anche le parole del senatore Guido Liris. Nuovo corso dell'Aquila, nuova struttura, c'è Mario Russo presidente, chiaramente c'è Ghirelli presidente onorario per andare tra i professionisti? Allora, intanto partiamo da un dato. Il modello è quello dell'anno scorso, perché è l'azionariato popolare. Se vogliamo fare un riferimento facciamolo al Bayern Monaco, così capiamo dove si va. Il Bayern Monaco ha, nell'azionariato popolare, che è una delle esperienze più avanzate, circa il 79-78% dell'associazione dei tifosi. Sono loro che mantengono il governo della società. Poi ci sono nel Bayern Monaco tre grandi imprenditori che assicurano ulteriori risorse finanziarie. Come si regge quel modello? Si regge che la proprietà è dei tifosi, dell'azionariato popolare. Logicamente, chi interviene con risorse finanziarie ha il suo spazio nel campo sportivo. Nuovo corso dell'Aquila Calcio, senatore Liris, obiettivi importanti per provare a tornare tra i professionisti? Sì, una nuova compagine che si arricchisce di nuovi elementi, un nuovo Presidente, una persona che abbiamo conosciuto come sponsor nel corso dell'ultimo anno, degli ultimi tempi, che vede una compagine, ripeto, arricchirsi, aggiungere elementi importanti, perché l'azionariato popolare, quindi il romanticismo dell'azionariato popolare, verifica come sul campo ci sia bisogno di professionismo anche nelle scelte, nei comportamenti e nella costruzione di progetti. Pertanto Mario Russo dovrà interpretare questo bisogno e questa responsabilità che abbiamo tutti quanti noi, noi come istituzioni e come tifosi. Abbiamo l'obbligo e il dovere di essere vicini, in punta di piedi, ma efficacemente vicini alla società, vicini ai colori rosso-bluo, vicini a un percorso e a un progetto che è lo specchio della ricostruzione della nostra città e del nostro territorio.